Ciao a tutti, benvenuti su Megistroflotus. Allora, prima di iniziare vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di commentare se vi va, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi ringraziamo un sacco per il supporto, per chi volete supportarci ancora di più potete abbonarvi sia su Twitch che su YouTube. E niente, vi ringraziamo veramente tantissimo perché siete sempre di più, il canale sta crescendo molto e noi siamo veramente tanto felici. Vi garantiamo lo stesso numero di video, che sono sempre tanti, ogni giorno. E niente, se volete supportarci anche in altro modo, seguitici su tutti i social, siamo attivi veramente ovunque. Trovate il link in descrizione del Linktree, in cui teniamo il link di tutti i video. Potete venire anche su Telegram, abbiamo due canali Telegram, uno dove si parla, si discute di Magic e l'altro dove si possono vendere e comprare le proprie carte. Allora, detto tutto questo, oggi parliamo di Centurion. Per Centurion c'è stato il torneo a 100, classico torneo che fa quasi sempre il record parziale o totale del formato. E infatti stavolta ha fatto il record totale, quindi 124 player e bisogna essere veramente contenti perché il numero è veramente ampio. Anche se, posso dire, la situazione di Torino in questo momento per Centurion secondo me è leggermente in calo. Può essere dovuto a tanti fattori. Diciamo che Torino ha tutta una sua struttura di player particolare. E quindi, però, c'è ancora tantissima gente che ci gioca. Noi giochiamo al Jolly Joker. Cioè, il torneo parte sempre e fa sempre numeri discreti, quindi siamo contenti. Allora, detto tutto questo, andiamo ad analizzare un po' il meta e a vedere quali mazzi se la sono cavata meglio. Allora, la Svizzera ha visto il primo posto per Grist, Kess, Rafin, Elmister, Geist, Tasigur, Oloro e Will e Lucas. Allora, in top 16 invece, dal nono a sedicesimo posto, troviamo Rafin, Aminato, Kyodai, adesso poi andremo a vedere alcuni di questi che non conoscete, Sai, Najila, Sidis, Rafin e Najila. Quindi questo è il meta della top 16. Andiamo a vedere invece i mazzi totali, in cui troviamo un 6 Tasigur, quindi su 125 stiamo parlando più o meno del 5% del meta all'incirca. Quindi, un numero non che crea problemi. 11 Rafin, e qua stiamo parlando del 9% del meta, quindi già un numero importante. 3 Geist, che sono per me oggettivamente pochi, però Geist si può ricondurre in un macro archetipo con Rafin, quindi in quei mazzi tempo a base bianco-blu. Quindi, diciamo che potremmo raggrupparli in 14 divisi in questi due deck. 4 Minatu, quindi più di Geist. 8 Geist, questo è positivo, perché se ci sono 11 Rafin e 8 Geist va bene, cioè non è un field a senso unico. Najila qua è segnato 1, ma credo sia sbagliato perché ne abbiamo appena nominati 2 qua, quindi credo sia sbagliato un Najila. Altri mazzi con un po' di gente, Soul of Wing Race 3, quindi un nuovo comandante, e questo ve l'avevamo detto anche ai tempi degli spoiler, che Soul of Wing Race è un ottimo comandante, assolutamente. 3 Grenzo, quindi contenti anche di questo. 3 Ogak, anche qui sono molto contento perché per me Ogak è sottovalutato, quindi un deck che si gioca poco in giro, almeno quattro rino, e devo dire che sono molto contento di vederne 3. 2 Shieldred, quindi New Entry apprezzata che ci sta, 2 Meria, anche qui New Entry, ottimo. 4 Sidis, sono contento anche di questo perché Sidis secondo me è anch'esso un mazzo sottovalutato. È un buon archetipo, soprattutto se non becca magari i mazzi combo, eccetera, soprattutto combo veloci, se la puoi giocare bene, perché comunque Soul of Wing ne fa veramente tanto, quindi è difficile giocarci contro. 3 Oloro, anche qui una novità, andremo a vedere anche la lista. Un altro mazzo che è arrivato a altre copie non c'è. Quindi, sicuramente il field è sano, è stato sano in questo torneo, perché 125 player e il mazzo più giocato 11x va più che bene, cioè non arriva neanche al 10% del field, quindi veramente ottimo. Andiamo a vedere invece poi chi ha vinto, perché i quarti è passato Will Lucas, Rafin Tasigur ha vinto Rafin, quindi anche qui interessante, è il Mr. Geist, 0-2 per concessione, c'è scritto quindi il Mr. non ha giocato e l'ha concessa al Geist. Poi c'è Kess, Oloro e ha vinto Oloro. Dopo un sacco di tempo è normale perché sono due deck contro l'abbastanza puri, anche Kess in realtà è difficile che contro un mazzo come Oloro faccia Kess alla cavolo di cane. Molto ovviamente sarà andata veramente lunga senza fare niente tutti e due i mazzi, finché non hanno avuto un tot di terre, minacce, counter, eccetera. Semifinali, Will Lucas contro Geist ha vinto Will Lucas, Rafin contro Oloro ha vinto Rafin. In finale Rafin contro Will Lucas ha vinto 2-0 Rafin. Quindi Rafin si aggiudica questo Age of War e ci sta il mazzo più giocato, quindi tutto coerente nella dinamica del torneo. Andiamo a vedere un po' le liste dei giocatori. Qua abbiamo un Grist che dovrebbe essere, credo, un classico... Eh, vabbè, la prima volta fa sempre così. Moxfie. Credo che sia un classico Grist. Andiamo a vederlo. Liliana, ci sono entrambe le Liliane. Liliana della Stop è ottima in Mirror, nel senso che Grist ti continua a fare 1-1, tu continui a distruggerli. Quindi ci sta la grande. E anche contro i mazzi controllo, se entra, comunque l'avversario deve toglierlo, perché altrimenti continua a fare più e poi fa la finisher. Fa la finisher, e la finisher vince. La finisher di Liliana. In più, col meno, potete riprendere Grist dal cimitero, perché essendo creatura in tutte le altre zone, lo potete fare. Guardando la lista così... Ah, la win condition è spesso Ogak di questo deck. Ogak è veramente fortissimo. C'è questa carta qua, che ti dà l'iniziativa, che è una rara di Commander Legends, che non avevo ancora visto, ma semplicemente non seguo giornalmente l'archetipo. E niente, tutto il resto è abbastanza normale. C'è la gita di Umezawa, poi di Incantesimi. Vi giocano un po' tutti, Recruiting Nightmare e Contamination. Quindi, ottimo. Bella lista. Secondo deck troviamo un Kess. Andiamo a vedere come è composto questo mazzo. E' un control puro, quindi ha tre creature e due place walker. Come vedete, è normale che la partita con Oloro sia andata molto per le lunghe, perché sono due mazzi che tendono a fare poche minacce ed avere tantissime risposte. Però se uno pesca tante risposte e anche l'altro, è normale che la partita, ripeto, vada molto per le lunghe, perché appunto non ci sono neanche le minacce da controbattere. Comunque, anche questa lista qua è molto standard per essere un Kess e dà la combo Lion's Eye Diamond Underworld Breach. Quindi, ottimo. Andiamo a vedere il terzo mazzo che era Finn, che è quello che poi ha vinto, se non erro. E anche qui le liste sono abbastanza standardizzate. Questo vuol dire che gli archetipi sono abbastanza finiti. Nel senso che non c'è molto da cambiare. E come potete vedere, sì, magari c'è qualcuno che gioca 3-4 creature diverse rispetto all'altro, però il mazzo è più o meno quello. Interessante lo spawn, che è veramente grosso. Forse ci sono tanti drop a 3 per avere Raffin come comandante, ma ci sta. Cioè, abbiamo anche due place walker a 3, non è proprio bellissimo. Però ci sta, tanto, magari uno prova a fare Raffin la prima volta, poi quando viene counterata, fai, facciamo gli altri drop a 3. E niente, quindi il mazzo è questo qua. Molto carino, un tempo. Se vi piace lo stile Geist, ma con più creature, questo è perfetto, veramente, perfetto. Poi, Elmister, che è un control puro. Quindi, diciamo che è come se fosse Shorikai. Scusate, bevo un attimo. È praticamente identico a Shorikai, cambia il comandante. Cioè, l'idea è quella. Non c'è molto di diverso. È proprio uguale. C'è Shorikai qua. E basta. Quindi, interessante il Triceri. Perché non è una carta da tutti i meta, nel senso che non è che in tutti i meta è forte. Però ci può stare. Si vede che ha visto un meta... Ha visto delle minacce che... Contro cui... Triceri è forte. Triceri è una carta fortissima. Però, per esempio, in un meta dove c'è Geist e Grist... Sì, i target magari li puoi anche trovare. Però non è semplicissimo. Pagare 5 per rubare un drop a 2 non è bello. Come potete vedere, le carte che ti fanno l'iniziativa... Ci sono. Cioè, in ogni deck c'è tipo una carta di Commander Legends con iniziativa. E questo è molto interessante perché... Non è proprio scontato. Però l'abilità iniziativa è oggettivamente forte. Soprattutto in questi mazzi tempo. Anche qui la lista è veramente standard. Geist ha veramente una lista che è quella. Poi, ovviamente, chiunque può cambiare 5 carte. Non è quello che fa il mazzo. La lista base è quella. Quindi Geist anche abbastanza standard. Vediamo Tazigur. Come l'hanno giocato. Se pezzi o combo. Mai pezzi. Liliana del Velo. Jace. Grist. Questa sì è una via di mezzo. In realtà è un ibrido. Che è uscito da un pochino di tempo. Dovrebbe avere anche Neoform. Eccolo qua. Che permette praticamente di giocare su Eldritch e Neoform. Ma non solo per Grizzelbrand. Magari Grizzelbrand lo pescate e non ve ne fate niente. Come faccio io quando gioco Tazigur. Io quando gioco Tazigur pesco Grizzelbrand e Eldritch sempre assieme. Quindi è veramente dura. Perché poi nella mia lista in realtà Eldritch serve a poco se avete già pescato Grizzelbrand. In questa lista invece c'è l'Arconte, c'è l'Agenda of Treachery, il Sylvan Primordial. Vieramente tante belle carte. Qua abbiamo anche Life Death. Una carta che mi ricorda il mio passato da ragazzino. E niente. Il resto del mazzo è abbastanza standard. Dust of the Dead, Animate Dead. Diciamo che è una lista ibrida contro il Reanimator. Quindi niente di particolarmente strano. Devo dire che secondo me questa performa bene. È una bella lista. Mi piace. Siamo arrivati alla posizione 7. Questo è interessante. Oloro, anche se la strategia ovviamente è quella di un control puro. Oloro vi dà la possibilità, per chi non lo conoscesse, non ha l'abilità Eminence, ma è un antisignano di Eminence. Quindi lui all'inizio del vostro upkeep guadagnate due vite. Sia che sia in campo, sia che sia nella command zone. Quindi non c'è modo di non farvi guadagnare due vite. Quando guadagnate vite, se lui è in campo, potete tappare uno. E se lo fate pescata una carta, i opponent perdono una vita. Quindi quando è in campo è ancora più forte perché vi permette anche di pescare. Ovviamente un 4-5 costo 6. Quindi non è che sia così forte castato. Nel senso che comunque tappi 6 per fare una creatura 4-5. L'avversario può fare quello che vuole per counterarla, distruggere, eccetera. Però se rimane in campo invece poi pescate due a turno. È molto figo. Il mazzo è molto simile a quello che abbiamo visto prima. Semplicemente che ha il nero, quindi ha tutte le carte forti nere. Ma è un control puro. Anche qui niente di troppo strano. C'è la maglia di Zur con Necropotence. Che sono due carte un po' particolari. Qua c'è tutta la sideboard per i maybe. Però il mazzo è quello. C'è un control esper. Ecco qua. Poi troviamo Will e Vise. Andiamo a vedere che è arrivato in finale. Questo è un partner Friends Forever and Never, eccetera. 4 colori. Bianco, nero, blu, rosso. Quindi non ha il verde. Ed è un mazzo combo. Come potete vedere al Painter Servant. Ci sono un po' di carte particolari. E tanti tutorial. Tantissimi tutorial. E poi abbiamo anche Berain Freeze. Con Underworld Breach. Lion's Eye Diamond. Greenstone. Quindi come potete vedere diverse combo. Tutte in un deck solo. Quindi anche questo è interessante. Può essere anche divertente. A me piace come idea. Ovviamente il mazzo è molto costoso perché essendo 4 colori con le dual è veramente pesante. Veramente, veramente pesante. Allora andiamo a vedere uno o due deck che mi hanno incuriosito. Uno è questo e l'altro possiamo mettere un Nagila a caso. Ecco qua. Allora. Partiamo da Nagila. 5 colori. Midrange. Tendenzialmente Midrange. Guardate qua che figo. Warrior su your team. Control. Ave. Ast. Figgissimo questo. Abbiamo sempre il Warrior con iniziativa. Perché è un Warrior. Quindi sinergico con l'abilità di Nagila. E niente. È un mazzo. Praticamente gioca tutti gli Warrior abbastanza forti. Nagila. E poi abbiamo accesso a tutte le carte. Tempo. Counter. Removal. Forti. Di tutti e 5 colori. Anche qui ovviamente il problema è un po' la mana base. Perché è veramente costosa. Se non avete le dual. Non potete pagare fetch. Shock. Fetch. Shock. Tutte le volte. Cioè. In un 5 colori dovete averle le dual. Se non è un casino. Guarda. Vi dirò. Non dico proprio tutte tutte. Perché comunque 10 dual sono tante. Eccetera. Poi se giocate 5 colori. Almeno 4-5 dual dovete averle. E. Pensare a giocarlo con 0 dual. Usando per esempio i triomi. Ci può stare. Ma non è. Non è ciò che vuole fare il deck. E questo è molto bello. E poi c'è Chiodai. Che è sempre un 5 colori. Però questa volta è un combo. È un simile. Chichi. Chichi corda. Come potete vedere abbiamo tutti i bless walker forti. Comprevisa Vivian. Che ci permette di scombare. E. La combo è. Ferry Guard Guardian. Con Chichi Chichi. Oppure possiamo usare. Restoration Angel. Con Chichi Chichi. Poi vediamo. Zerius Conscript. Con Chichi Chichi. Tutte con Chichi Chichi. Vediamo se ne trovo altre. Qua no. Qua no. Qua no. Non mi sembra. No. Sono queste qua. E. Poi abbiamo tutti i tutorial del mondo. Quindi abbiamo Neoform. Green Sun Zenit. Finale. Il Ditch Corda. E la Damri. Questa per tutelare gli artefatti. Birteam Pod. Ovviamente. E. E anche qui il mazzo è costoso. Perché comunque stiamo parlando sempre di un 5 colori. Poi vediamo se gioca al nero. Sì. Sì. Si gioca al nero proprio. Vediamo se ha qualcosa di nero. Sì. Ha il Plug Engineer. Sì. Il nero è proprio tipo un poche carte. Griste quella. Sì. Di altro di nero non c'è niente. Ha 2 carte nere. Però è comunque un 5 colori. Le due alle credo che le giochi tutte. 2, 5, 6, 7. No. Qua ne gioca 7. Ok. 3, 6, 8. Scusate. Ne ha tagliate due. Probabilmente ha tagliato quelle col nero che non gli servono. Tipo il mare o che non ce l'aveva il mare o qualcun altro. Comunque è molto interessante questo. Allora. Siamo giunto alla conclusione di questo video. Spero vi sia piaciuto. Complimenti a chi ha vinto. E complimenti a chi ha organizzato questo torneo. E niente. Lasciate un like. Iscrivetevi al canale. Commentate se vi va. E attivate la campanella. Ciao ragazzi.